Dai, eh, ma si deve provare, fa schifo, ragazzi, dai! Ma andiamo di Bigolo, anche Bigolo è kickbait, visto che ci metto Bigolo davanti. Dai, Bigolo va bene, dai. Facciamo demoni con Bigolo, non preoccupatevi di questo, eh. Alex, perché è topa? Non so se posso applicare sta cosa. Eeeh, Laura, non so quale sia la tua difficoltà nel vivere. Però se tu continui, io muoio. Eeeh, ok. Ulchiorra. E bisogna capire qua, non... Ah, la bet, aspetta. Eeeh, la bet. Avvia pronostico, aspetta che perché non fa... Che lui fa cagare, lui fa tutto schifo, è sempre lui again, madonna che schifo. Allora, bet, avvia pronostico, Lola, porco cazzo. Top 4, top 8, toh, bettate. Eeeh, dormi. Lola. Questo è il richiamo ancestrale di Lola. Mi sa che vuole cagare? No, 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 no. Qua, qua. Sto visto che vuoi cagare io, no? Qui. Lì la fai. La fai lì la cacca. Madonna, adesso caga, sa un odore incredibile, chat. No, adesso lei caga... Oh, tripla? Lei caga... No, devi cagare là! È un bait, vero? È un bait gigantesco. Lì, lì, Lola, è giusto lì. Non piangere, è giusto lì. Lola, lì, è corretto. Lola, lì dove la stavi facendo, è giusto? Devi prendere il tapetino. Maria Vergine. E Lola qui, qua. Qua? Annusa qui che c'è putta di merda. Vuol dire che è qui che la devi fare. Dai, ti prego, Lola, ti prego. Non fare così. Lola, 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 per favore, là. Là, non qui. Qui non tirerai nulla da me. Non ti faccio cagare sotto di me. Ma non attaccare Paolo, che cazzo? Ma questo qua? Ah, mi l'ha usato i due. Sentite come abbaglia Paolo. Vabbè, dopo io metto il tappetino fuori. Oh, la cacca là. Ti prego, non cagare adesso che non guardo. Non puoi piangere per ogni cosa che io ti dico, fai il caga lì. Tu piangi, non puoi permettertelo. Sentite come piangi, sentite come piangi. Maria Vergine. No, cosa stai facendo? No, 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 no. Ti ho detto lì. Io, tutto ho sgamato, eh. Brava. Aspetta che adesso devo gratificarla. Madonna, la merda. Madonna, quanta merda. La fai piangere. Ma no, è che vuole uscire di casa. Perché lei pensa di dover cagare di là. Invece lei deve capire che deve cagare sul tappeto. Maria di Cristo, no, la... Sta ancora cagando, eh. Non ha finito. Sta continuando a cagare. Non voglio dirvelo io, eh. Lola, quanto cag... Come è possibile? Vabbè. Lola? Fatto? Sta finendo, sta finendo. Sta finendo in questo momento. È bloccata. È tipo... No, raga, sbocco. Raga, sbocco. Mi viene da vomitare. Ma se io faccio questo e poi faccio così, così è dopo loro due. Se io comprassi loro due non dovrebbe essere male loro due. È stata brava perché voleva uscire dalla porta per farla lì fuori. Brava, Lola. Caga. Io faccio così, ragazzi. Io faccio così, chat. Secondo me questa non è sbagliato, eh. Non spostarglielo. No, 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 è che adesso è racchiusa qua dentro. No, no, è da lì a lì. Fa conto che è due metri, ragazzi. Però cosa posso fare? Teoricamente questo qua funziona, no? Se detto qua, raddoppia l'attacco e diventa un più salute. Cioè, non vorrei dire una stronzata, ma teoricamente... Questo funziona. Chat. Lei dice che dà più 2 HP. Perfetto. Ah sì, glielo dà. Dopo però glielo dà. Glielo dà dopo. Super good. Però non è permanente, giustamente non è perma. È solo per il fight. È solo per il fight. Non mi diventa un 11 adesso, vero? Se no sarebbe OP. Ok. Oh, è una tripla questa, no? Questa è una tripla che si fa. Quindi io qua allora cosa vorrei fare? Io qua prendo profetta dei cinghiali. Cioè, io dandogli più 1 più 1, questa qua prende più 1 più 5 adesso. Merda, che figo. Allora, aspetta un attimo. Qua abbiamo due scelte. La prima è quella di prendere e frizzare. La seconda è quella di prendere e fare una tripla e 4. Però io, secondo me, possiamo permetterci di farla. Se io prendo questo, sto fight lo straperdo, però. In realtà anche se prendo questo, no. Il turno dopo possiamo comprarlo or. Forse conviene lui. Forse conviene fare così e il turno dopo loro due. È che così lui mi dà una gemma in più, no? Cerchiamo di tankare un po' perché secondo me sto turno mi fa male. Più 1 più 5, no? Merda. Si sa quando esce la patch per telefono. Uscirà a mezzanotte, l'una. Esce sempre più tardi. Mi dicono che c'è un video di 24 minuti di mercenari su Legend Stuff. Un gameplay? Non penso. Me lo linki in chat, carissimo, Simon? Aspetta, non sei sub. Vabbè. Linkamelo in modo che io possa vederlo. In qualche modo. Questo è più 12 più 2. Ok. Ok. Male. Va bene. Ok. Questo qua fa l'effetto. Va bene. Gli do il permit, sì. In PVT, se no? Anche in PVT, sì. Vabbè, ma saranno i ritagli di quello che è stato il video della live di oggi. Penso. Saranno i ritagli della live di oggi. Molto bene. Io la Tribal la farei al 4 con il gattino. Quindi lo farei così. Anzi. Così. Vendo, compro, compro, no? Tanto comunque la faccio qui il vantaggio della... La faccio al 4 perché non voglio prendere il cazzo sostanzialmente. Poi siamo Bigolo. Se non gridiamo, veniamo comunque premiati. Idra. Questo cosa fa? Da più 2 dopo che un attacco... Dopo che un drago ottiene attacco. Persona Gemma no, non potevo fare altrimenti. Ma la scaglia... Baffa merda. Potevamo fare Idra e creare un'Idra grossa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Che mi piaceva darle qua perché do più 1, più 5. Ogni Gemma è più 1, più 5. È una Mega Idra questa. Secondo me qua è Idra. Prevento il follow quando lascio BG. Allora addio. Testa di merda. Merda se mi state sul cazzo voi. Voi sì che sapete come farmi incazzare. Immaginati giocare le cose che non vengono aggiornate e lamentarsi. Grande, eh. Vecchio, guarda, veramente. Ti invito a non tornare, guarda, per favore. Puttana merda, oh. No, non si poteva fare... Perché appena gioco il 3-1 si tripla. E tu calcola che il profeta di cinghiale ti dà una Gemma solo per il primo Verrospino. Quindi non ho perso Gemme, my friend. Non potevo fare altrimenti. Ok. Ok. Eh, ma la scaglia andava più 3-4 se baffava il Drago, però. Comunque mi dicono che c'è una run completa dei mercenari. Che cazzo stai dicendo? C'è un'intera run di mercenari? Non è... C'è una run intera di mercenari? Non è mai una... Magari, Dio de Dio. Questo è grosso. Questo sarebbe più merda. Questo è forte, cazzo. Cioè, noi vorremmo quasi... Però qua si fa qua. No, no, è una run. Ma stai scherzando? Non sono estratti una run completa? What the fuck? Cioè, una run completa di mercenari dura 20 minuti. Cazzo! La vediamo appena finisce. Finisce e la vediamo, chat. Finisce... Finiamo sto game e lo vediamo. Insieme. Ma veramente? Ma sono delle teste di merda, eh. 20-4 minuti è una partita con tutti i pendenziamenti. Eh, probabilmente, però, Nicola, è anche una live dove... Scusa, è anche una cosa dove lo stesso avversario è di livello alto, no? È di livello alto anche l'avversario. Tocca a dire che Hoppa ha trovato doppio bronze world e non so dove. E la mia idra ha hitato molto male. Forse vinciamo lo stesso, però, no? Concedi un minco punti. No, 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 no. Raga, se durò veramente 20 minuti una run, io... Io... Abbiamo vinto tutto. E muori, Paces di merda. Non può morire, Paces. A me si sono esattati i punti in presa, quelli arancioni. Eh, Neko, aggiorna, chiudi e riapri, ce l'hai. Tranquillo. Allora, eh... Io non livello. Perché siamo sto eroe qui. Quindi io qua rollerei Alla ricerca di Bowbuff Tripla Pezzi solidi. Da questo punto il servitore ha perso lo scudidino e fornisce una gemma. Sto qua ruba tutte le gemme e le dà uno. Quindi questo noi lo prendiamo e facciamo una mega idra adesso. Ho fatto una merdata, mi sono incastrato in modo molto stupido. Mi sono veramente incastrato in una caccata fotonica. Una merdata fotonica perché qua mi arriva un cazzotto. Qua il limite dei 15 danni è giusto. Perché qua forse me li farebbe 15 danni. Deve morire Pacis. O Melo. No, un gulo. Com'è che si chiama lui? Maestro Unguien. Deve morire un gulo. Oddio, forse se mi si attiva... Ma io perché l'ho messo là? Perché t'ho messo qua? Vabbè, tanto saresti morto, vaffanculo. Ah no, si è attivato. L'ho baffato male. Comunque vinciamo. Incredibile, vinciamo. Cleave di idra, perfetti 2 su 2. Grande idra, sorella. Adesso vediamo tutta la partita di mercenari. Pacis, veramente un HP? Faccia di merda? Perché vuoi trascinare anche me nella tua morte, bastardo? Allora. Fermi tutti che qua mi serve fare qualcosa. Mi devi dare o la trafficante... O qualcosina. Questo no. Non c'è più quello che baffa idra, Cristo de' un Dio. Al fine di turno si controlla un pirata e mette una moneta. Dopo che è stata messa una carta nella tua mano... Da più in un altro pirata casuale. No. Mette un servitore con guida di battaglia. Io qua prendo un dannone. Questo qua fa veramente schifo perché cazzo l'ho comprato. Bella domanda. Conveniva veramente livellare qua, eh. Fino più nei tuoi servitori adiacenti per ogni tipo drago. Senti, facciamo così. Brocca. Eh, ok. Così. 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 Io qua perdo ma idra mi tanca. Adesso questo qua dà più o più nei tuoi servitori adiacenti per ogni tuo drago. Quindi questo qua dà più... Quindi questo qua si buffa e questo qua prende anche più... Ehm... Più tre più... Ehm... Sette... Sette, no? Più tre più sette... E ok. E qua... Spero di non arrivare a farne quindici, eh. Però... Vabbè, no, aspetta. Non ho trovato niente, mi sto adagiando. Qua potevo abbaffare idra o l'altro, ma va bene. Ok, oppo è incazzato. Ti prego, itta bene. Poteva fare meglio. Mamma? O Bran? Nope. Mamma o Bran? Bravo. Tu non fa lo stronzo. Bravo. Bran. Bello. Ok, vinta. 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 Ma mi sa che ero sopra, no? Probabilmente ero sopra. Cioè, perdevo solo sidra e ittavo a destra o a sinistra. Ma quindi c'è una mega run sui mercenari. Ma Blizzard, vedi che fa le cose a cazzo. Reno è morto e Reno aveva una tripla perché ha fatto il HP. E noi non la prendiamo. Comandante un 730 diventerebbe più 12. Troppo poco. Tutti gli oppo sono a taverna 1 perché è buggato. Dopo che un tuo servitore ha perso, no? E comandante per forza, qua è level up. Dopo che un altro tuo drago attacca, gli dà cazzi. Ok. Vendo, compro e finisco con lui. Cioè, in realtà, faccio roll, vendo lei e compro un altro pezzo. Sta roba qua fa cagare. Goal! Non ci sono i mech. Vediamo se avrei trovato di meglio. Puttana Christian. Va bene. Aveva taunt questo! Eh, non lo frizzo lui però. Non lo frizzo però. Sì, ma a turno 10 un solo morto che non mi dà il minion golden ne aveva due lui, no? No, uno ne aveva. Ok. Boh, noi siamo sopra ancora in realtà, eh. Cioè, dipende come da... Che il nostro attacco va bene. Idra è gigante, cazzo. Idra ci sta ultracarriando. Questo si attacca lì, gli togliamo lo scudo di vino. Che figo è quel pezzo lì? Quello lì non si attiva. E lui esplode. Guarda che figo quel pezzo lì che quando lo attacchiamo gli fa del danno. Ma si poteva sicuramente far meglio. Io li mi sono incastrato e non sono morto. Merda, gli tiro un cartone di Cristo a sto ragazzo. Porca puttana, è appena morto Reno, peraltro. Due morti. Uno con tre e uno con quattro triple. Let's go. Eh, lui per forza. E lui per forza. Per forza. Roll per non perdere i soldi. Quello lo compro io. Quindi qua se ne va lui. Entra 42-42 che rimane perché è grosso in culo. Ogni due turni mette la tua mano il servitore dorato. Quanto è ciò? Drago. Pirata. Demone. Bestia. Eh, Amalgadone. Con Ada, con Bran. Quindi, allora. Questo se ne va. Questo se ne va. Bran. Brocca. Minchia per forza, non ho aggiunto secondi perché non sto capendo una sega. Vendetta lui fa schifo. Cristo. Se ne fosse adattato. Ah no, lui è quasi perfetto. Non so se era una Dino Calegos qua. Però, Amalgadone non gli dici di no. Secondo me. Ma quanto è forte quel drago lì 5-5, ragazzi. Tizio lì 5-5 è broken. Fortissimo quel draghino, questo draghino di merda qui. Ma Dino. Tu vai sull'11-1, please. Madonna, è enorme sta cosa. Il problema è che adesso io sono bloccato con quella Amalgadone là, no? Avevo un 50-50. Ammazziamo il 36? Ok, no. Abbiamo vinto lo stesso. È che gli facciamo molti pochi danni. Invece no. Invece no perché toccava ad attaccare a Hydra. Ok, molto bene. Molto, 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 molto bene. Un sacco di danni. E un altro morto, top 4. Pelli ce vaffanculo. Potrei mangiarmelo. No, ma mi mangio l'11-14. Milaus che cazzo ha? Chi lo sa. Cosa cerchiamo noi? Level up? Dio Cristo, sono in panico. Allora, Bran forse se ne va. Potrei andare su di taverna. Lui mi sembra che abbia appena livellato. Non so se ho visto male, ma mi sembra di aver visto l'icona del leveling. Potremmo fare level up, andare su, rollare, vendere, mangiare. Devo veramente vendere Bran? Secondo me si vende lui adesso. Allora, aspetta, no? Fa tutto schifo. Questo qua è quello dei pirati. Questo giro si prende, però. Quindi se ne va Bran. E si gioca con Calegos. Sono tre draghi. Quattro con Calegos. Cioè, in realtà non si farà mai lo switch. Per questo diventa enorme, cazzo. Sarò sincero. Sto facendo un po' a cazzo, eh. Acquisto Aghem che non so se arriva ad Octask. E siamo grossi, comunque. Lui è grosso. Però noi siamo grossi, cazzo, ragazzi. Qua 50-50 era importantissimo. Questo è molto brutto, però. Ok. Ma qua lui è più grosso. Oddio, non è detto, eh. Io lì c'ho due minion giganti in fondo. Madonna, non sto capendo un cazzo, ragazzi. Vi giuro, è un macello. Veramente, non sto capendo. È molto confusionario. È normale. Ci sono 37 minion nuovi. Cioè, credo che sia più che giustificabile. Boh. Cioè, il problema è questo. Adesso bisogna capire come chiudiamo. Adesso prima andavi nel Gadone, spammavi, Nadina, cosa. Adesso qui conviene andare in quella direzione con questo meta? Boh. È Amalgadone. È Amalgadone, no? È Amalgadone o Calegos? Porco diaz. Anche Bronze Warden è goddaz, fuck. È Amalgadone. Così mi libero uno spazio in board. E poi rollo per Calegos. Tanto siamo contro il morto. E soprattutto dalla tripla è facile che magari arrivi. Guarda che bordello del cazzo. Vabbè, diventa un milione. Nadina. E allora si va Draghi. Ma essendo contro il morto possiamo permettercelo. Un'altra Nadina. Allora, essendo contro il morto forse possiamo permetterci di vendere il pezzo brutto. Tra virgolette. Sì, ho anche Idra. Oddio, è che Idra contro lui probabilmente vince. Questo è brutto ma per modo di dire, Dio de Dio, eh. È brutto per il meme, cioè. Cioè, sta qua mantiene tutti i buff. E questo qua gli dà più uno, due, tre, quattro. In realtà gli dà più otto, più otto. È come se io dessi più otto, più otto ogni turno oltre ai buff che faccio. È worth, eh? Eh no, il cazzo. Piotto, più otto e scudo divino. Lei adesso ha sempre scudo, Targ, cosa. Il cazzo solo più otto, più otto. Io le ho appena dato scudo divino. Sì che è stato worth, cazzo. È stato molto worth anche. Sto cercando di far quadrare qualcosa che nella mia testa non quadra, eh. Però va bene. Vabbè, questa è vinta. Si vende, Nadina? Beh, che non mi so cosa abbiano. Allora, conto di lui. Sì, Idra. Non è forte perché lui ha quella merda là. Quindi forse se rimane Milaus si vende. Se rimane lui però no. Indovinate chi è rimasto. Dammi Octask allora. Sì, ma vecchio sono passato da una build all'altra in modo vergognoso. Incredibile. E... Questo è God. Allora, fermi tutti. Idra se ne va. Boh, cioè che... Non lo so. Non mi sembra più abbastanza grossa me, Idra. Cale Ghost. Magadona. Sto capendo una sega. Ci dovrei vendere questo. Ma non posso vendere un 55-55 de Cristo. E insomma. Senti. Sai cosa ti dico? Vaffanculo. Questo è il mio game. E sti gran cazzi. Cioè, questo è quello che faccio io e sti cazzi. Lui cos'è? Cazzo è sta roba? C'è via. C'è... Grazie a tutti E mo' si menano per tre quarti d'ora Più 140 HP ha dato questo Eh ma io son sopra, ho più attacco Vabbè, il primo posto nel nuovo meta, tocca dire, è bellissimo Bellissimo Che figata quella cosa lì Comunque primo posto, eh Primo posto nel nuovo meta di Battlegrounds Vorrei dire con Bigolone Che peraltro è un gran bel Bigolone Very nice, very nice Grazie a tutti 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 Grazie a tutti